Ragazzi e ragazze, finalmente ci siamo, è la settimana delle Coppe Europee, della Champions, dell'Europa League e della Conference League, però domani e dopo domani avremo due partite straordinarie come italiani, Barcellona-Napoli e Atletico Madrid-Inter. Adesso vi andrò a leggere cosa ha detto Ter Stegen, il portierone del Barcellona, però lasciatemi dire che da italiano sarei molto felice che passassero tutte le squadre della nostra nazione, soprattutto la mia Roma, e anche perché, devo essere sincero, anche un po' paraculo, no? Se andiamo avanti di questo passo, il ranking UEFA ci pone al primo posto e quindi abbiamo un altro slot, un altro posto in più per la Champions League e quindi la mia Roma, arrivando quinta, potrebbe entrare di diritto in Champions. E lì davanti c'è proprio una battaglia perché il Bologna sta andando alla grande, non considero Inter, Milan e Juventus perché penso abbiano già facilità ad arrivare, abbiano molte chance di arrivare in Champions League più di tutte le altre e quindi il quinto posto sarebbe fondamentale. Però questo video è incentrato alle parole, alle frasi di Ter Stegen, il portiere del Barcellona che adesso vi andrò a leggere, le argomenterò, voglio il tuo di commento qua sotto, però fatevi ringraziare, Enrico Caffarelli vi manda un abbraccio grandissimo e un bacio per i like, per le iscrizioni, grazie mille, ma anche per i commenti che scrivete qua sotto perché io leggo sempre tutto, anche se non rispondo, mi piace leggerli appunto. E anche a chi mi è venuto a seguire su Instagram, vi lascio il link qua sotto in descrizione per lasciarci qualche messaggio in privato, in direct, così, tanto per conoscerci, no, seppur virtualmente. Comunque, detto questo, vado alle parole di Ter Stegen, il portierone del Barcellona che ha dato la sua, ha detto quello che pensa su questa partita che verrà, su come può passare il turno il Barcellona, perché loro vogliono assolutamente andare avanti così come lo vuole il Napoli, giustamente, no? Non è che vanno lì a farsi una passeggiata ai napoletani, no? Calzona e company, vogliono vincerla e il risultato dell'andata è stato un pareggio, quindi il Napoli, se vince, ovviamente passa, se pareggia, va nei supplementari e poi anche ai rigori. Non lo so come finirà, io spero, come ho detto al inizio, le italiane devono andare avanti perché sono italiano e anche perché il ranking UEFA rimane così com'è. Primi in classifica, ma anche se arriviamo secondi insieme alla Germania o anche dopo la Germania, il quinto posto ci spetta di diritto. Però Ter Stegen ha detto questo, siamo concentrati sulla partita, se pensiamo ad altro sbagliamo, conterà solo il risultato. Tutti noi vogliamo passare, pensiamo solo all'obiettivo, vogliamo prodare ai quarti di Champions League, e beh, giustamente, anche lui vuole andare avanti con il suo Barcellona. C'è allegria per giocare questa partita così bella, tutti vogliono sentire l'inno della Champions, c'è entusiasmo, vogliamo sia un successo, vogliamo sia un successo. Giustamente, gioca col Barcellona, ha aggiunto Marc-André Ter Stegen nel corso del suo intervento. Però andiamo alle frasi più importanti, più succose. Sul Napoli ha detto questo, sono bravi nel fraseggio, fanno muovere la squadra rivale. Noi abbiamo la stessa impostazione e punteremo a non fargli avere troppo il pallone. E se lo controllano, devono farlo sotto pressione. Non dobbiamo fargli controllare il gioco, perché poi così creano opportunità. Soltanto così possiamo passare il turno. Quindi Ter Stegen ha detto, ha svelato come giocherà il Barcellona. Lo andranno a prestare alto il Napoli, mettendoli sotto pressione, non facendoli giocare. E quindi non lo so se gli è convenuto dire questo, però ce lo aspettavamo, no? Perché il Barcellona, diciamo, gli piace impostare, gli piace dettare il gioco. Però lasciatemi dire che ho letto anche le frasi di Corbo che lo stadio dove andranno a giocare questa partita non è il Camp Nou o Nou Camp, come si chiama? Camp Nou o Nou Camp? Comunque, lo stadio storico di Barcellona, che io andrò a vedere quest'estate, già penso di andarci, spero di andarci, dipende dai lavori. Giocheranno in un altro stadio, Montiuk, Montiak. Vabbè, comunque ha detto che è largo, è uno stadio, un campo di gioco, non uno stadio, un campo di gioco anomalo, perché è largo. Quindi il Napoli avrà, dalla sua, l'opportunità di essere veramente pericolosissima sulle fasce, perché sappiamo che Politano e Quarascheglia sono devastanti, soprattutto se gli dai spazio. Quindi Calzona avrà preso le contromisure di Trestegen, che loro praticamente punteranno a pressare alto il Napoli, ma se poco poco gli danno spazio libero, campo aperto a Quarascheglia, che è indemoniato, l'ho visto contro il Torino, contro il Torino era? Sì, contro il Torino, che ha giocato da solo. Ha giocato da solo Quarascheglia, ha fatto di tutto e di più, ha segnato, gli ha detto pure male. Sta in una forma smagliante, quindi non lo so, se il Barcellona alla fine magari Xavi e company faranno tutto il contrario di quello che ha detto Trestegen e magari aspetteranno il Napoli nella propria, diciamo, metà campo e loro poi in contropiede magari potrebbero essere molto pericolosi, perché anche la squadra blaugrana ha degli interpreti magnifici. Non è che stiamo parlando del Barcellona di Messi, di Ronaldinho, di Guardiola, però è pur sempre una grande squadra, ragazzi, il Barcellona è da temere. Il Napoli deve stare con i pieti per terra, non deve farsi portare in alto dall'entusiasmo a sbagliare, magari ad essere troppo sicuro nei passaggi, deve starci col cervello, devono fare una partita umile, ma nel contempo aggressiva, grintosa, e secondo me se giocano come sanno, perché il Barcellona poi alla fine ti fa giocare, è una squadra che non è che marca tutto campo come fa il Torino, come fa l'Atalanta, che non ti fa affiatare, il Barcellona ti lascia l'opportunità di renderti pericoloso, perché sa anche aspettare. Non so se faranno appunto come ha detto Ter Stegen, però secondo me il Napoli di Calzona avrà sicuramente chance per poter far male alla squadra spagnola, e vedremo come andrà a finire, sicuramente sarà una partitissima che tutti noi guarderemo, e tutto il popolo italiano spero sia contento del passaggio del turno del Napoli, perché come ho detto all'inizio è importantissimo, soprattutto perché prima di tutto, scusate tutto tutto, siamo italiani, e poi per il ranking UEFA, a me interessa anche per quello, poi ognuno è libero di avere la sua opinione, la sua mentalità, Enrico Caffarelli è fatto così, ragazzi, questo penso e questo dico, lascia un like a questo video per supportarlo, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, attiva la campanella delle notifiche, e seguimi su Instagram, ti lascio il link in descrizione qua sotto, almeno ci possiamo mandare qualche messaggio in privato, ciao a tutti, e spero che tutte le italiane passino il turno, dai!